Quello che vedete come noto è il palazzetto dello sport di Brindisina con trada Masseriola a pochi metri. Oggi 13 dicembre 2022 è iniziata l'operazione di tracciamento della sagoma del New Arena. Dopodiché ci saranno delle trivellazioni per analisi geologiche che porteranno pian pianino verso il progetto finale. Un segnale positivo che fa ben sperare per un'accelerata dei lavori del nuovo palazzetto dello sport a Brindisi. La New Arena assorgerà quindi qui, come vedete dalle immagini, proprio accanto al vecchio impianto di trada Masseriola. L'obiettivo, lo ricordiamo, fare da volano lo sviluppo di una città che grazie al nuovo palazzetto potrà accogliere eventi sportivi internazionali, concerti, dei big della musica e meeting. Le operazioni di tracciamento, trivellazione in superficie e in profondità del luogo in cui nascerà il New Arena è solo il primo passo verso quello che per tanti anni, forse troppi, è stato solo un sogno nel cassetto e che dovrebbe precedere effettivamente la posa in opera della prima pietra.